Ciao, sono Max Volpi e sono il fondatore del sito ifioridibac.com, nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore a base di fioridibac capaci di agire alla radice dell'inconscio. Oggi parliamo di fioridibac per chi non si sente amato, è una dinamica molto importante che riguarda molte persone. Oggi ad esempio ho ricevuto tantissimi commenti su un post che riguarda proprio questa cosa, perché se durante la nostra infanzia noi abbiamo vissuto una sorta di lutto perché ci aspettavamo che qualcuno arrivasse ad amarci nel modo in cui avevamo bisogno e questa dimensione non è arrivata, allora questi strascichi ce li portiamo anche nella vita adulta. In questo video andremo ad approfondire proprio questa dimensione. Ma prima di iniziare ricordati di iscriverti al nostro canale YouTube utilizzando il pulsante iscriviti che trovi qui sotto e dopo clicca sulla campanellina per ricevere ogni notifica relativa alla pubblicazione dei nostri video che avvengono ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Fioridibac per chi non si sente amato. Questa è una dinamica molto importante a cui dedichiamo un buono spazio perché sicuramente la maggior parte della popolazione mondiale, non ho paura a dirlo, ha una ferita depressiva perché la nostra società in questo momento è divisa in due. Ci sono i narcisisti al comando e i depressivi che eseguono fondamentalmente, proprio riassunto in breve. E quindi queste due dinamiche tendono una a soverchiare l'altro, l'altra a farsi soverchiare. Chi tende a farsi soverchiare fondamentalmente ha una bassa autostima, non percepisce il valore di sé perché ci sono tanti motivi per questo. Fondamentalmente uno dei motivi per cui non si percepisce un buon valore di sé è perché non si ha motivo di esprimerlo, questo valore. Cioè io non si ha modo di esprimerlo, ecco diciamo così, perché ci sono moltissime persone che per tantissimi motivi fanno magari un lavoro poco gratificante, che serve soltanto per arrivare a fine mese, è l'obbligo in qualche modo. Diciamo che la nostra società in questo momento non sta messa bene da questo punto di vista, però la questione della ferita depressiva, quindi dell'atteggiamento in cui io avverto dentro di me una mancanza di amore che poi porta tutta una serie di conseguenze sul piano pratico, deriva dall'infanzia fondamentalmente. Quindi da dove deriva? Deriva dalla sensazione all'interno della persona di aver ricevuto meno amore di quello che era necessario per stare bene. Questo ci porta a un'altra considerazione, che la persona con una ferita depressiva ha percepito almeno una volta questo amore totalizzante. Perché? Perché è riuscito a fare il paragone, cioè se io dentro di me sento che non ho ricevuto abbastanza amore, vuol dire che almeno una volta questo amore l'ho ricevuto e questo mi ha lasciato un'impressione e da lì ho sempre sentito di riceverne meno. Però almeno una volta c'è stata questa totalità, questa percezione di totalità. Da qui la ferita depressiva, cioè io sento che ho ricevuto meno di quello che mi serve per essere felice e quindi il mio bisogno dove mi porterà? Mi porterà sempre verso la ricerca di questo amore che in realtà io sento mancarmi. Come si risolve questa dinamica? Si risolve aiutando la persona a prendere consapevolezza che l'adulto non può più ricevere l'amore che non ha ricevuto e che comunque non lo avrebbe ricevuto comunque, perché se lo avesse ricevuto non sarebbe in questa situazione. So che sembra complesso ma in realtà questa è la dinamica. Quindi quello che accade che cos'è? è che la persona per porre fine a questa sensazione di vuoto, a questa mancanza che continua a farsi sentire, come se ci fosse un grosso buco nello stomaco in cui continuare a raschiare e in cui in realtà non c'è questo amore, è prendere consapevolezza che in realtà è la persona stessa che si deve amare per farsi di sentire questo amore. Perché l'atteggiamento infantile, finché è racchiuso all'interno della sfera infantile e quindi finché un bambino di 8, 10, 16 anni chiede questo amore, ok, quando lo fa un cinquantenne è fuori luogo ovviamente, perché il cinquantenne si presuppone che abbia imparato a amarsi abbastanza e a entrare nella dinamica successiva, quindi passare dal bambino a diventare adulto, a diventare genitore e quindi poi ad amare a sua volta. La capacità di amare presuppone l'essere stati amati, perché altrimenti manca un passaggio chiaramente. Quindi che cosa accade all'interno di questa struttura caratteriale dove la persona avverte di non aver ricevuto abbastanza? Che c'è un bisogno compensativo, cioè la persona comincia a dire, ok, tu non mi ami, ma se io faccio di tutto per te, allora tu di conseguenza capirai questo e mi amerai. Questo è l'atteggiamento alla base del fiore cicori, ok? Quindi ci sono state nel tempo all'interno del, diciamo, della letteratura floreale, che poi la letteratura è anche perché i fiori passano di bocca in bocca e le persone ne parlano, quasi una sorta di allontanamento della persona cicori, cioè quando si parla di cicori si pensa sempre alla mamma italiana che tiene tutta la famiglia lì vicina, italiana mediterranea, che tiene tutta la famiglia lì vicina perché vuole avere vicini tutti quanti. Da una parte è vero questa cosa, però poi prende dei caratteri morfologici strani, no? Mentre se ne parla questo atteggiamento. In realtà alla base di cicori che cosa c'è? C'è la sensazione di non meritarsi l'amore e quindi c'è sempre questo atteggiamento volto a garantirselo, ok? Questo è alla base di cicori, è questo che è importante capire di cicori. Capire il vuoto che prova questa persona. La percezione di vuoto e quindi di mancanza d'amore è il motivo trainante di questo comportamento, ma se noi guardiamo solo il comportamento e quindi vediamo soltanto cicori, vediamo soltanto una persona che si comporta in maniera egoistica nei confronti degli altri, ma non capiamo il suo vero bisogno che è un bisogno di fondo e che è il bisogno che fondamentalmente abbiamo tutti, cioè quello di essere amati. Perché quando siamo amati riusciamo ad amare, ma se non siamo amati chiaramente quel buco, quel vuoto che abbiamo dentro, continua a chiedere cibo, no? Continua a chiedere attenzione e questo fa sì che la persona poi assuma un atteggiamento cicori che è quello di dire, ok, adesso voi dovete amarmi, io vi prendo e fate quello che voglio io, perché io voglio che siate vicini, ok? Ma questa è soltanto una conseguenza, dobbiamo sempre risalire alla radice e la radice è questo vuoto d'amore, questa mancanza di amore che poi spinge le persone cicori a dover amare per sopravvivere, perché la metafora da capire è questa, se io dentro di me avverto un vuoto relativamente all'amore, quindi sento che nessuno mi ama, allora come conseguenza il mio comportamento cercherà di riempire questo vuoto, è per questo che cicori ha questo atteggiamento, ok? Quindi il cercare di riempire questo vuoto è la questione su cui noi dobbiamo portare l'attenzione e su cui anche la persona cicori, ovvero quella che assume i rimedi, deve cominciare a ragionare per capire realmente che cos'è che bisogna fare per trasformare questa dimensione, perché è questo il concetto, il concetto è proprio questo, io ho un vuoto, sento un vuoto, come faccio a trasformare questo vuoto in qualcosa di positivo? Portando coscienza sulla percezione di questo vuoto innanzitutto, quindi cicori che cosa aiuta a fare? Aiuta a fare questa trasformazione e aiuta la persona a comprendere che se io voglio essere amato devo amare, ma questa è una conseguenza, arriva dopo, soprattutto devo capire che l'amore non è una cosa che c'è o non c'è, c'è sempre, sono io che sento quel vuoto perché non mi attribuisco quell'amore, non mi do quell'amore, quindi non mi occupo di me. La persona cicori tendenzialmente essendo convinta di non avere abbastanza amore, che cosa fa? Si proietta all'esterno, lo chiede agli altri, cioè perché non mi ami quanto io vorrei? Perché non mi dai abbastanza di quello di cui ho bisogno? Questo poi porterà al bambino eter, che è la conseguenza dell'atteggiamento cicori, ok? Però il concetto di fondo è questo, la persona deve capire, e questa comprensione arriva attraverso un lavoro interiore, no? Che questa percezione di mancanza di amore è un retaggio infantile e che bisognerà lavorare su questo retaggio infantile con i fiori per capire che questo bambino o questa bambina, anche se la percezione è non sono stato amato, l'amore è lì, è presente e come si può portare dentro si può portare fuori. Quindi ecco, questo è il lavoro che fa cicori. Ovviamente attaccato a cicori molto vicino su questa linea c'è eter, che è il fiore fondamentalmente della paura della solitudine, che è una conseguenza spontanea di questo atteggiamento. Se io sento il vuoto dentro di me, non so come riempirlo, quasi automaticamente sento anche la paura della solitudine. Non sono da confondere questi due stati, anche se spesso sono uniti, perché la paura della solitudine può anche esserci in altri contesti. Però è importante capire che il meccanismo alla base di tutto è che la persona sente un vuoto e quindi come conseguenza cercherà negli altri qualcuno che questo vuoto lo riempia. Cicori e di conseguenza eter fanno esattamente questo lavoro. Ci sono tanti altri fiori intorno a questa dimensione, perché poi la personalità si struttura intorno a questa dinamica di vuoto. Quindi potrebbe esserci gentian, potrebbe esserci l'arche, potrebbe esserci agrimoni, a seconda di che tipo di comportamento poi la persona mette in atto. Ma il fulcro è questo. E lo vediamo anche, ed è molto interessante, quando andiamo in natura e vediamo la pianta della cicoria, se noi prendiamo la pianta della cicoria e tagliamo i rami, quelli piuttosto grossi, quindi non quelli dell'anno in corso, ma quelli precedenti, vediamo bene che all'interno il ramo è cavo, è vuoto. E questo ci fa capire che cicori proprio, la pianta, ha questo vuoto all'interno. E questo vuoto all'interno è anche quello che percepisce la persona che poi va a elemosinare l'amore agli altri e si carica di questo atteggiamento che diventa egoistico, perché una persona privata di qualcosa di fondamentale come l'amore poi chiaramente ha un atteggiamento come dire questo è un mio diritto, tu me lo devi dare perché è un mio diritto. E questa è la parte esteriore dei cicori che noi vediamo, ma non dobbiamo limitarci alla parte esteriore, dobbiamo vedere il vuoto interno per capire davvero la sofferenza che questa persona prova, ok? Io sono Max Volpi, sono il fondatore del sito ifioridibac.com nonché l'ideatore della floriterapia transpersonale evolutiva e delle costellazioni floreali, due dinamiche di lavoro interiore e di crescita personale che potrai scoprire sul nostro sito accedendo attraverso i link che trovi qui sotto nelle note. Grazie e ciao!